buongiorno benvenuti alla sala stampa del centro sportivo gb fabbri spal conferenza pre gara di spal salernitana di domani sera alle ore 21 lo stadio paolo mazza settima giornata di serie b kt 2020 2021 diamo prima delle domande al nostro allenatore pasquale marino gli indisponibili che per la gara saranno castro floccari viviani strefezza paloschi e gomis buongiorno mister giorno iniziamo con le domande dei colleghi giornalisti da sovrani telestense radio international a chi spetterà il compito di sostituire castro squalificato no abbiamo più di uno di un'opportunità abbiamo in organico la possibilità di mettere magari un attaccante oppure pensare di mettere alzare uno dei centrocampisti che può essere murgia può essere valoti missiroli hanno queste caratteristiche domani abbiamo questa possibilità o dall'inizio gara in corso di variare potremmo vedere un centrocampo di sostanza con missiroli e salvatore esposito questa è più o meno è la stessa cosa vedremo domani dipende come se decidiamo di giocare con un attaccante in più o avanzare uno dei tre cento dei quattro centrocampisti che abbiamo in organico sempre da sovrani a reggio ancora un secondo tempo in sofferenza quali motivi e quali rimedi ma i motivi primo tempo è stato in totale equilibrio insomma abbiamo fatto un buon approccio alla partita alla fine abbiamo rischiato poco nel primo tempo nel secondo tempo hanno avuto l'occasione che ha preso il palo densi e denis ed era secondo me fuori gioco di partenza e più l'occasione del rigore non diciamo diciamo che non era non era secondo me non c'era ecco non era limpido quantomeno però la squadra diciamo così l'ansia di portare a termine il risultato ci ha fatto anche diciamo così abbassare un po troppo ecco per quello che sono le nostre caratteristiche e poi abbiamo sbagliato molto sulla tre quarti perché in questi casi bisogna cercare in tutti i modi di chiudere la partita e poi per non rimanere in apprezzione fino alla fine noi purtroppo abbiamo sbagliato tanto sulla tre quarti nel sfruttare le opportunità e gli spazi che loro inevitabilmente lasciavano perché erano in inferiorità numerica perché dovevano riprendere la partita e quindi attaccavano con tanti uomini e sotto questo aspetto certamente dobbiamo fare ancora passi avanti e che comunque bisogna abbiamo saputo soffrire diciamo ecco nel senso che abbiamo rischiato non molto quelle due opportunità che hanno avuto più qualche tiro da fuori quindi in una giornata che non è non siamo stati brillantissimi sicuramente abbiamo concesso poco agli avversari tra due atti la nuova ferrara quali sono le differenze nell'interpretazione del 4-4-2 della Salernitana rispetto a quello recentemente proposto dall'Anerossi Vicenza a Ferrara? Simile come atteggiamento tattico il Vicenza forse palleggia di più mentre la Salernitana gioca molto in verticale cercano di chiudersi bene e ripartire bene lo hanno fatto abbastanza in maniera equilibrata questo atteggiamento ed è anche produttivo perché ripeto sono una squadra difficile da affrontare una squadra compatta che si chiude bene nelle due linee e poi ha i giocatori giusti per ripartire. La Salernitana ha uno da Benazzi Radio Dolcevita la Salernitana ha uno degli attacchi più prolifici del campionato quali le contromisure per evitare di lasciare spazi ai suoi attaccanti ed evitare un finale in affanno come nelle precedenti partite? Diciamo finale in affanno sì è successo qualche volta ma diciamo che col Vicenza in affanno erano i nostri avversari visto che abbiamo segnato abbiamo fatto con noi però è un attacco che si completa bene ai due sterni Cupitz e Cicirelli diciamo molto offensivi saltano bene l'uomo e poi Tutino e Diuric si completano ecco quindi molto equilibrati e diciamo hanno la velocità e la fantasia di Tutino e la forza fisica dell'attaccante centrale Diuric quindi noi per limitarli dobbiamo essere bravi alzare il livello di attenzione tutto lì perché se noi alziamo il livello di attenzione come stiamo cercando di fare sicuramente dobbiamo per forza limitare i giocatori di qualità. Da Malagutti il resto del Carlino cosa ha detto a Castro dopo l'episodio di Reggio Calabria? Sono cose non ho detto niente di particolare ma in ogni caso sono cose che rimangono nello spogliatoio. Ci sarà ricorso? Penso di sì ancora non ho chiesto alla società però penso di sì. Da Vendemmiati Rai Emilia Romagna l'attacco sempre in emergenza ritiene che Moro possa essere più prima punta rispetto ad Esposito? Probabilmente il movimento che fa Esposito ha aiutato anche gli inserimenti dei centrocampisti visto che col Vicenza abbiamo fatto gol con gli inserimenti dei mediani per cui può essere anche se non segnano gli attaccanti a noi interessa che qualcuno faccia gol per cui non è un problema l'importante è arrivarci, l'importante è creare occasioni. Da Swatin, estense.com, tutto mercato web, la SPAL ha uno dei migliori attacchi del campionato ma al di là dei vari problemi fisici i gol faticano ad arrivare dagli stessi attaccanti. Qual è il motivo? Il motivo è che si sbloccheranno gli attaccanti, magari si erano sbloccati due e poi si sono dovuti fermare. Noi, devo dire, il gruppo sta lavorando bene, sta cercando di sopperire anche a qualche carenza che purtroppo magari non siamo fortunati che gli indisponibili capitano nello stesso reparto. Siamo il miglior attacco senza che Paloschi, senza che Flocari, senza che Strefezza abbiano giocato tanto quindi è un motivo, diciamo così, di orgoglio, tra virgolette, perché significa che tutti i ragazzi si sacrificano e che nelle difficoltà lo hanno fatto ancora meglio. Per cui diciamo che la squadra cerca di arrivare a creare tanto, per poi non è un problema di chi segna. Se nella stessa domanda si parla che siamo uno dei migliori attacchi e speriamo che quando sono a disposizione, a disposizione anche altri attaccanti, si possa solo migliorare. E questo è sicuramente il nostro obiettivo, è prendere sempre più consapevolezza delle nostre possibilità soprattutto che dopo tanto tempo siamo tornati alla vittoria. In una settimana abbiamo fatto degli ottimi risultati, quindi tutto il resto viene da solo. Prima magari si parlava tanto, era un po' che non si vinceva, adesso che in una settimana praticamente c'è una qualificazione al turno successivo in Coppa Italia e due vittorie insomma credo che questo possano spingerci ad avere più entusiasmo nel lavoro a cercare, come ho detto dopo la partita, a correggere con tanto entusiasmo gli errori che ancora facciamo. Sempre da Suatin, buone prestazioni ma poca incisività, cosa serve a Sebastiano Esposito per sbloccarsi? Magari un gol, però lui il ragazzo ogni partita ha qualche opportunità alla Crea, non è stato molto fortunato perché è stato bravo il portiere sia col Vicenza, ha fatto un bel intervento sia all'ultimo minuto del primo tempo il portiere della Regina, non ha tirato male, si era smarcato benissimo, quindi non è stato fortunato sotto porta però il ragazzo si sta impegnando, non gioca nel suo ruolo naturale e va elogiato per questo perché si sacrifica e si mette a disposizione dei compagni. Da Orlandin, lo spallino.com, un luogo comune vuole che le grandi squadre ottengano la vittoria anche quando incontrano difficoltà. La SPA, l'intesa come gruppo di giocatori, si è convinta di essere una grande squadra o è ancora lontana dall'avere questa mentalità? No, diciamo che stiamo migliorando, stiamo migliorando di partita in partita anche come ho detto prima in una giornata dove non eravamo brillantissimi, sì è vero abbiamo rischiato qualcosa, c'è stato un rigore che secondo me è inesistente, ho dubbio quantomeno e poteva ribaltare tutto ma poi c'erano ancora più di mezz'ora di partita magari la riprendevamo perché l'aspetto psicologico conta tantissimo e il fatto di essere in superiorità numerica in avanti di un gol probabilmente, inconsciamente abbiamo pensato a gestire più la partita che non a chiuderela questo è un errore che dobbiamo evitare nel proseguo di ripetere. È andata bene per fortuna però diciamo che la squadra deve acquisire una mentalità tutta sua, una mentalità di pensare di partita in partita di avere come dico sempre uno spartito da portare avanti a prescindere dagli interpreti, a prescindere delle assenze che ci sono cercare di fare sempre delle partite importanti perché più giochi bene più è facile portare a casa il risultato quindi questo dobbiamo fare. Sempre da Orlandin, nel precampionato aveva affermato che dopo 7-8 gare si sarebbe vista la sua spalla arrivati alla settima giornata ritiene di essere in tabella di marcia o i vari imprevisti hanno rallentato il percorso di costruzione? Secondo me abbiamo fatto dei miglioramenti sotto tanti punti di vista un esempio è che anche i numeri lo dicono il fatto che abbiamo fatto qualche gol insomma non essendoci attaccanti puri si può dire davanti e questo significa che rispetto all'inizio in precampionato all'inizio anche per una condizione fisica che chiaramente di partita in partita migliore attacchiamo con più uomini nell'area di rigore quindi questo è evidente visto che hanno fatto gol con inserimenti da dietro i centrocampisti e credo questo sia un miglioramento netto che abbiamo fatto però ci sono tante altre cose che dobbiamo migliorare lo sappiamo che siamo indietro sicuramente non avere o cambiare spesso la squadra o per necessità o a volte turnover insomma certamente ha rallentato un po' però la strada da percorrere è sempre la strada del gioco e sicuramente ancora non siamo qualche imprevisto come nella domanda stessa c'è stato e certamente non aiuta l'evoluzione in positivo di quello che dobbiamo fare e quelle che sono le nostre potenzialità io credo che questa squadra abbia tanti margini di miglioramento ecco quindi questo ho la convinzione nella continuità del gioco perché a sprazzi facciamo cose bene fatte bene altre meno abbiamo fatto già diversi gol che la palla ce l'abbiamo noi non so per quanto tempo senza che gli avversari la toccano e poi andiamo a fare gol come è successo anche il gol che ha fatto Castro è nato da un palleggio da un lato all'altro e poi siamo tornati a sinistra e arrivati all'azione del gol ecco questa mentalità di giocare di avere la pazienza che quando l'avversario si chiude e si abbassa dietro la linea della palla avere la pazienza di girare per trovare l'eventuale possibilità di andare dentro è un fatto positivo dobbiamo migliorare anche quando conquistiamo e andare subito in verticale perché chiaramente quando si conquista palla gli avversari che fanno gioco magari si aprono un po' e dobbiamo essere bravi e incisivi a giocare in verticale sono cose che vengono col tempo e a poco a poco i ragazzi si stanno applicando per cercare di farlo e di migliorare di partita in partita è chiaro che dipende molto a volte dall'avversario da come si può interpretare la partita stessa da come è successo domenica il primo tempo in equilibrio poi siamo andati in avanti del gol in avanti di un uomo dobbiamo evitare di pensare di gestire per troppo tempo le partite dobbiamo pensare a chiudere grazie mille e buona giornata grazie a voi